Signori per favore tacete un momentin, vai in onda a un accogliente piccolissimo teatrino, laddove si presenta un ospite d'onor e tante cose ancora, parola mia d'onor, nell'unico teatrino con un posto solo. Presentiamo il piccolissimo teatro del Quartetto Cetra, interpretato dal Quartetto Cetra, cantato dal Quartetto Cetra, mimato dal Quartetto Cetra e scritto dal Quartetto Cetra. No, da Faele. Strano, molto strano. No, un momento, scherzi a parte, con questa trasmissione presentiamo agli ascoltatori una nuova rubrica. Speriamo che questo nostro piccolissimo teatro che giunga gradito sia che vi troviate ad ammirare la luna sul mare oppure ad ascoltare il mormorio di un torrente alpino oppure che vi troviate in città sul balcone di casa nella vana ricerca di un soffio di vento. Signori state calmi, ancora un pochettin, è pronto l'accogliente piccolissimo teatrino, chiediamo solamente un poco d'attenzione e senza esitazione, con vostra permission, andiamo a incominciare già il sipario. Sale! Grazie a tutti!